Cioè, prima di iniziare, ma che maglia ho? Affittasi anche solo per una notte? Hashtag nei commenti, hashtag affittasi anche solo per una notte, mamma mia. Salve a tutti, sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video, finalmente ragazzi, rieccoci e sono veramente contento di registrare questo video, prima di tutto perché sto ricominciando a parlare con una videocamera, che a dirlo pare strano, ma no, è fare i video, e a fare i video ragazzi, a montare, bellissimo, parlare con voi su Instagram ragazzi, è una cosa bellissima, quindi ragazzi seguitemi su Instagram, contattatemi perché sono veramente felice che siete tantissimi, piano piano risponderò a tutti, però veramente è bellissimo parlare con voi e mi strappate un sorriso ogni tanto. Comunque, grazie mille per tutti i commenti dello scorso video, mi avete lasciato, sì Alex, sei tornato, finalmente, grazie mille, non vedevo l'ora. Comunque, ragazzi, due giorni fa era il 2 settembre, cioè il mio compleanno, ho festeggiato 14 anni, tantissima gente, tutti i miei amici mi hanno fatto i regali, anche i miei genitori, e quindi ve li mostrerò. Non so, ragazzi, i prezzi di nessun regalo e neanche me ne importa, e ringrazio a tutti quelle che mi hanno regalato qualcosa, anche piccolina, ma basta il pensiero, ragazzi, cioè a me non mi importa del regalo, se me lo fanno sono ancora più contento, però se non me lo fanno, cioè, chiesso bene. Ve li mostrerò, non mi voglio vantare niente perché non c'è nulla da vantarsi su queste cose per me, poi prendetela come volete, quindi ragazzi non mi voglio vantare niente, non la prendete per un uomissima, perché sono tutto tranne un uomissima, comunque ragazzi, possiamo, ora stiamo perdendo il loro potere, possiamo incominciare. Primo regalo, ragazzi, ecco qua un pacchettino, easy, andiamo a vedere, ed è un profumo. Un profumo che veramente amo, o, cioè, l'ho sentito ed è veramente buono, lo ando a mangiare. Eccolo qua ragazzi, questa me l'ha regalato una mia amica che ringrazio tanto, ciao Francesca, ecco qua. Bellissimo. Veramente è bellissimo, ringrazio molto, guardate, easy, è veramente un regalo che apprezzo molto, grazie Francesca, e ecco qua il primo regalo. Passiamo al prossimo. Secondo regalo, questo me l'ha fatto la fidanzata di mio fratello, ed è un pallone della Europa League, bellissimo, e una maglietta per giocare, per fare allenamento. E' bella leggera, di cotone, e veramente bella bianca, con una scritta qui in verticale. Proviamola addosso. Cioè, ci sta, veramente ci sta. Guardate. E il pallone. Messi, attenzione, Messi. Ma che giocatore ragazzi, che giocatore. Neanche i palleggi so fare. E ringrazio molto Alessia, grazie mille per il regalo. E il pallone, ci sta, mi serviva un pallone, perché non ho neanche un pallone. Cioè, ce ne ho i palloni, ma sono palloni buoni, che conservo, perché comunque è un ricordo, per esempio, quello della serie A di Massimo Coda, che già vi ho fatto vedere, firmato, quindi non è che posso portare giù per giocare a calcio. E questo, veramente, mi serviva un pallone, quindi, grazie mille. Passiamo al prossimo. Prossimo regalo, ragazzi. Ecco qua. Attenzione. La busta del Benalto Store. Guardate, cioè, fantastica. Veramente bellissima. Questo me l'hanno fatto alcuni miei amici, che saluto. Grazie per Paolo, Antonio, Salvatore e Carmelo. Grazie mille per questo regalo, che ora vi mostrerò. Ed è del Benalto Store, diciamo, da busta, che potrà essere mai. Una t-shirt del Benalto Store, bianche e nera, che bellissima, ragazzi, con lo stemma K qui, di quest'anno. Cioè, bellissima, veramente. Ed è, e poi, ovviamente, il pantaloncino sempre nero, abbinato. E, cioè, comodo, veramente leggero. Ora vi farò vedere. Ecco qua, ragazzi, guardate. Cioè, mi sta proprio bene. E ora, non si vedono i pantaloncini. Comunque, veramente grazie a Lil, perché è un bellissimo regalo. Qua lo stemma, il benamento. Anche qui. E questo me lo metterò quando vado a giocare. Perché io gioco sempre, ragazzi, ogni giorno a calcio, mamma mia. E quindi me lo metterò, me lo ingerterò quando andiamo a giocare. E ci sta, veramente. Grazie mille. Prossimo regalo. Tra l'altro, sono rimasto con la maglia di Benalto, perché veramente mi piace tantissimo. È fatto da mio fratello, che ha fatto un viaggio in Grecia quest'anno con la fidanzata. Ed è questa maglia, che c'è, russa. Spettacolare. Mi mancavo una maglia russa, veramente. Guardate, però, l'unico problema, ragazzi, è grandissima. Cioè, questa taglia L, io porto o la S o la M, perché, comunque, cioè, non porto taglia così, cioè, guardate, la L mi va grandissima. Però, comunque, ovviamente, non l'indosserò, perché, tipo, cioè, capiamo. Vi rendete conto quanto è grande? Non va a mio padre. E, comunque, cioè, è bellissima. La, la conserverò, cioè, non la indosserò mai, perché è troppo grande, quando crescerò, magari. E, la conserverò, perché, comunque, un regalo, veramente bella. Grazie, Andrea, per questo regalo. E, bella cosa dire. Peccato che è grande, troppo grande. Ora, vi faccio vedere. Cioè, guardate, è grandissima, veramente, mi allarga. Ci vanno due persone qua dentro. Guardate, cioè, troppo grande. Però, mi piace lo stesso, grazie mille. Le mi amuse, questa maglia, perché, veramente, è troppo grande. Ora, ragazzi, passiamo con i pezzi forti, veramente, i pezzi forti, che mi hanno regalato, e, ovviamente, ringrazio a tutti. E, questa volta, ragazzi, c'è, un'altra, un altro regalo del Benevento, fatto al Benevento Sto, cioè, questa è grandissima, questa busta. E, all'interno, ovviamente, che ci può stare, una felpa del Benevento, cioè, fatta da mia zia, abbinata, guardate, col cappuccio, veramente, è bella. Abbinata a questa maglia, cioè, veramente, questo è un regalo fatto da mia zia, e i miei amici e mia zia, cioè, non si conoscono, hanno fatto, diciamo, hanno pensato quasi allo stesso modo. Loro mi hanno fatto il completo, e lei la felpa abbinata, guardate, nera, grande, indossiamola, anche se fa caldissimo. Ecco qua, ragazzi, è veramente bella, si, si, un po' i capelli, perché, non è tanto bello fare i video con i capelli, diciamo, molto scombinato. Guardate, è bellissima, mantiene a caldo, infatti sto scoppiando, leviamola, e, bella. Grazie mille zia, e, bellissimo regalo, mi piace, voto 10. Prossimo, prossimo regalo fatto da una mia amica, ragazzi, andiamo un po' più veloce, perché, ce ne stanno altri, quindi, non possiamo far giurare il video 20 minuti. Borsa della footlooker, guardate, fatto da una mia amica, grazie, Miriam. All'interno ci sono calzini dell'Adidas, ecco qui, anche so, quante paia sono, tre paia, calzini, calzettoni lunghi, dell'Adidas, e io addosso molto calzettoni lunghi, ho quelli della Nike nel cassetto, e questi sono di lana, cioè, questi è più per forse l'inverno, e ancora non li apro, perché, comunque, non li voglio già subito sporcare, eccetera. Li metterò, li indosserò tantissimo, perché, veramente, mi piacciono i calzini lunghi, dell'Adidas, quindi, cosa dire, grazie mille, mettiamola in busta, e, passiamo al prossimo, perché, ce ne stanno altri. Ora, ragazzi, un altro regalo fatto da, un'altra mia zia, ed è, attenzione, attenzione, la t-shirt della Le... ce la faccio. La t-shirt della Levis, guardate, cioè, fantastica, veramente, mi piace un botto, ed è questo, cioè, diciamo, il mio cugino, ha fatto, una sorta di scherzo, praticamente, guardate, dove mi aveva messo la maglia, qui dentro, cioè, dentro, uno scatolo, dove lui aveva comprato le mutante della Lazio, ragazzi, è tifoso, tantissimo della Lazio, e, praticamente, mi aveva messo la maglietta qui dentro, non so come ha fatto, perché, però, ha messo la maglietta qui dentro, io, tipo, mi arriva il pacco, io, me lo dà, e lo scarto, perché stava la busta, e vedo, ha scritto questo, io dico, ma che cazzo, lo giro, giro un po', faccio un po' così, faccio con la faccia, ma che sta facendo, veramente, questo, e vedo mutande, io, mi faccio tipo rosso, non so perché, vado, grazie mille, no, non me ne importa niente del regalo, però, grazie mille, del regalo, e lui dice, dai, aprilo, e fanno idea come stanno, vabbè, apro, e vedo, per fortuna, perché, sennò, questo, andavano all'altra parte, perché, sincero, che devo fare con le mutande della Lazio, bene, sì, ci sta, ma, della Lazio, e vedo la maglia della Levis, e, vabbè, e lì, mi innamoro subito, ancora non le indosso, anche se sono passati due giorni, io subito indosso i panni nuovi, e, maglia della Levis, semplice, con la scritta, Levis, color blu, mi piace, veramente, mi piace, grazie mille, Marco, e Assunta, mia zia e mio cugino, per questo regalo, che, veramente, apprezzo tantissimo, cioè, tutti ne apprezzo, però, questo, veramente, mi è piaciuto, tantissimo, Ma ora, ragazzi, veramente, passiamo con i pezzi forti, ragazzi, sono fatti, questi regali, sono stati fatti da, i miei genitori, e, tan 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 tan, maglia della Pyrex, cioè, scusate, no, maglia, felpa, della Pyrex, rossa, e, con la scritta, vabbè, Pyrex, ho qui, su tutto, qui, ma, la scritta Pyrex, e, al centro, sempre, la scritta Pyrex, dietro, non c'è niente, Non me la metto, ragazzi, sto scoppiando di caldo, per favore, non me la fate mette, però, mi va, a pennello, e, bellissima, Ovviamente, non so, nulla, di quanto, l'hanno, mi ha dato, credo, tanto, perché, comunque, una felpa, della Pyrex, costa, e, cosa dire, grazie mille, bellissima, mi va, a pennello, e, E, bella, felpa, semplice, che, indosserò, molto, perché, mi piace, diciamo, il brand Pyrex, mi piace molto, prossimo, sempre, fatto dai miei genitori, e, di qua, veramente, è, un regalo, che, aspettavo, da molto, avevo chiesto, da, tanto, tempo, e, è, è, diventato, tipo, uno, dei miei, brand, preferiti, cioè, K, cioè, veramente, K, ho, quasi, tutto, preso, la, t-shirt, della, K, i, calzini, non so, se, si, vede, della, K, mi hanno, preso, la, maglietta, il, ben,amento, K, e, quest'anno, c'è, lo, sponsor, K, e, non, poteva, mancare, ragazzi, non, poteva, mancare, le, tutte, K, cioè, quanto, cazzo, le, amo, e, stiamo, con, la, prima, della, K, cioè, ragazzi, io, veramente, amo, mi piace, tutto, qui, K, K, con, diciamo, lo, sponsor, K, per tutto, la, maglia, qua, la, fetta, tutto, con, la, zip, mi piace, veramente, tantissimo, tutto, della, K, veramente, un, brand, che, sto, apprezzando, tantissimo, probabilmente, è il, mio, secondo, brand, preferito, perché, mi piace, sia, Nike, tantissimo, soprattutto, per le, sneakers, e, K, veramente, K, il, top, ora, ve lo, faccio, vedere, anche, se, sto, scoppiando, di, caldo, però, non, fa, niente, merita, merita, tantissimo, felpa, K, guardate, cioè, bellissimo, veramente, bello, guardate, come, sta, bene, bianca, bianca, se, devo, dire, la verità, la, preferivo, nera, perché, il, bianco, soprattutto, l'inverno, mmm, non è, che, mi piace, tanto, e, poi, si sporca, tantissimo, quindi, tutti, i giorni, a lavare, starà, però, bella, quindi, non me ne importa, se, il, bianco, nera, però, ci, sta, bene, e, poi, il, pantalone, K, russo, e, ora, vi, faccio, vedere, anche, questo, ecco, qua, non si, vede, molto, si, vedete, cioè, veramente, bellissimo, grazie, mille, mi, piace, tantissimo, sia, la, felpa, sto, scoppiando, di, caldo, per chi, fa, così, caldo, comunque, stavo, dicendo, sia, la, felpa, tutto, bello, K, 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 nel, cuore, ok, ragazzi, questi, sono, tutti, i, regali, che, mi, hanno, fatto, veramente, ringrazio, tantissimo, perché, sono, regala, sono, cioè, tutti, i, regali, apprezzo, però, veramente, mi, hanno, saputo, prendere, cioè, hanno, regalato, proprio, le, cose, che, mi, piacciono, di, più, la, felpa, della, Pyrex, la, tuta, della, K, già, l'ho, detto, mille, volte, la, felpa, del, ben, evento, la, maglietta, della, Levi's, il, completino, il, ben, evento, tutta, roba, che, mi, piace, mi, è, piaciuto, e, sono, rimasto, veramente, contento, quindi, ringrazio, a tutti, ma, il, regalo, più, bello, che, tutto questo, siete stati, voi, che, mi, avete fatto, tutti, ma, dico, tutti, gli auguri, su Instagram, proprio, a mezzanotte, appena, scattato, 00, 00, la, mezzanotte, ho, visto, 3.000, messaggi, tutti, su, auguri, 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 bombe, tantissimi, messaggi, e, veramente, sono, rimasto, a bocca aperta, non, mi, aspettavo, tutto, tutti, questi, gli auguri, e, anche, vabbè, su, WhatsApp, tutti, i miei amici, e, veramente, ringrazio, a tutti, per gli auguri, ragazzi, tutti quelli che mi hanno fatto, un piccolo, pensierino, che, apprezzo, tantissimo, troppo, bella, cioè, sono, innamorato, sono, innamorato, di questa, ok, ragazzi, questo video, finisce qua, sto, scoppiando, di caldo, noi, ci vediamo, a un prossimo, video, mi raccomando, lasciate, quanti, like, 300, like, per questo, video, e ci vediamo, al prossimo, ciao, viva K, viva K, tutta la vita.